Beh questo è un argomento molto delicato, concettualizzare le opere d'arte è un'esigenza, è un'esigenza concettualizzarle perché almeno nell'arte contemporanea o almeno nell'arte relazionale, le pratiche partecipative di cui mi occupo non tutti conoscono la materia e hanno delle difficoltà e quindi è giusto che io trovi un linguaggio anche per le persone che hanno voglia di lavorare con me ma comunque non arrivano a comprendere fino in fondo le mie operazioni, sentono grandi stimoli a livello istintivo, istintuale ma vorrebbero sapere di più. E quindi diciamo che il lavoro di concettualizzare, di parlare, di utilizzare comunque un altro linguaggio al di fuori dell'opera, descriverla, farla partecipativa verbalmente diventa in questo caso un'esigenza. In un altro momento concettualizzare l'opera per me significa questo, per me l'opera d'arte non è solo fare il quadro, la scultura ma è un'azione, è un'azione che è poetica ma per quello che mi riguarda oltre che poetica è anche politica. Quindi io lavoro anche con istituzioni, gruppi sociali in difficoltà, lavoro in Bosnia, anche nei campi profughi, rotta balcanica e questo per me significa fare l'arte, significa arrivare a progettare, fare progetti artistici per queste zone, per occuparmi di cambiare la situazione sociale, stimolare le persone, trovare nuove soluzioni, sviluppare il potenziale creativo delle persone, ma questa azione che faccio di scrivere progetto, di coinvolgere le istituzioni, di creare rete, è già in sé un'azione artistica, è già in sé un'opera, ma mi richiede un altro tipo di linguaggio, mi richiede di concettualizzare. Ma è anche un'altra parte del mio lavoro, perché non significa, ripeto, solo creare l'opera, ma l'opera è anche il progetto. Quindi, anche quando mi sono ritrovata, invitata a sedere al tavolo della cooperazione italiana, io mi sono seduta, per il lavoro che ho fatto, per i progetti che ho costruito, mi sono seduta come artista, come artista che si occupa di arte contemporanea, e ho utilizzato concetti e linguaggio diversi che materiale, gesti e mezzi dell'arte, ma il mio linguaggio verbale, e concettualizzando, mi serve come strumento, mi serve come strumento per farmi capire. Grazie.